Un pareggio interno per 1-1 che lascia l'amaro in bocca al Gavorrano. Lo Scandici gioca in inferiorità numerica tutto il secondo tempo, ma i padroni di casa non ne hanno approfittato e vedono leggermente complicarsi la corsa ai play-off. Partiamo con la cronaca dell'incontro. Al sesto minuto, Pardera è costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia. Al suo posto entra Gomes con il Gavorrano che si risistema con un 3-4-3 rispetto al 3-5-2 con cui aveva iniziato l'incontro. Al quindicesimo, punizione dal limite per la squadra di casa dopo un fallo di mano di Pietro Battista. Sul pallone va Costanzo, conclusione che fa la barba al palo. Al diciottesimo, Gomes controlla un pallone sulla trequatti e lo serve in maniera più che invitante a Berardi, ma Martinelli in uscita chiude lo specchio e salva lo Scandici. Al ventisettesimo, gli ospiti provano a pungere sul calcio di punizione con Pecchioli. Palla a un palmo dai pali della porta gavorranese. Un giro di lancetta e gli ospiti passano in vantaggio. Ballardini riceve palla defilato in aria e lascia partire un insidioso tirocross in diagonale che Poli appoggia in rete da due passi. Al quarantatresimo, Gavorrano ha un passo dal pareggio con il filtrante per Cerretelli che da dentro l'aria prova a concludere. La palla si avvia a entrare in rete, ma è provvidenziale l'intervento di Vinci a sbrogliare la situazione. Nell'unico minuto di recupero assegnato dal direttore di gara, frittata difensiva dello Scandici, con Jukic che si avventa su un pallone che sembrava innocuo e lo conquista. Prima che possa calciare a porta sguarnita, Martinelli lo stende e si prende il rosso. Pecchioli lascia il posto alla polizia.